Inquinati, latti e omogeneizzati per l'infanzia Il team di ricercatori dell'Università di Pisa ha pubblicato nel Journal of Pediatrics un articolo sugli alimenti italiani per l'infanzia inquinati da estrogeni fungini. Il team italiano ha ricercato e scoperto la presenza della micotossina zeara lenone e dei suoi derivati metabolici nei latti artificiali per neonati e lattanti. E le analisi sono state estese successivamente a prodotti a base di carni omogeneizzati per l'infanzia, pure nei quali la contaminazione è stata rilevata. Tale micotossina, sebbene presenti tossicità non immediata, presenta attività ormonale anabolizzante, già ampiamente dimostrata. Sia negli animali d'allevamento, in cui si ottengono crescita in grasso precoci, sia negli esseri umani, come in particolare sono noti i casi di bambini di 6-7 anni di età con pubertà anticipata. Il team pisano è partito dalla considerazione che i latti artificiali costituiscono una fondamentale e spesso l'unica fonte di nutrimento per i neonati durante i loro primi mesi di vita. Però, al tempo stesso, esistono solo informazioni molto limitate riguardo la presenza di contaminanti negli alimenti commerciali per l'infanzia. A tal scopo, i ricercatori dell'Università di Pisa hanno analizzato 185 campioni di latte artificiale commercializzati dalle 14 maggiori ditte d'Italia. Per ogni tipo di prodotto sono stati analizzati almeno 5 campioni da lotti diversi. In finale, si precisa che sono ancora tutti da chiarire gli effetti a lungo termine di tali esposizioni, potenzialmente dannose per la salute. Si segnala quindi l'urgenza di colmare il vuoto legislativo, con limiti specifici sia per tali alimenti, sia per i soggetti pediatrici per tali micotossine. Grazie a tutti.